Congratulazioni per il vostro successo elettorale. Vi do il mio più caloroso benvenuto nella Casa della Democrazia Europea. Siamo infatti l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini. L'Unione Europea si trova ad affrontare in questo momento sfide senza precedenti e la voce del Parlamento è fondamentale. Noi vogliamo più potere per il Parlamento Europeo, vogliamo un vero potere d'iniziativa da parte del Parlamento. Sta ora a voi far sentire la vostra, la nostra voce. La nostra responsabilità è grande perché non rappresentiamo soltanto il nostro elettorato, ma insieme alle colleghe e colleghi prenderemo decisioni che avranno un impatto sulla vita dei cittadini di tutta l'Unione Europea. Vi faccio i miei migliori auguri per questi cinque anni che saranno decisivi per il futuro dell'Unione. Buon lavoro, certamente saremo insieme nei prossimi anni.